T'amo, ogni giorno, ogni istante di più T'amo, perché al mondo per me ci sei, soltanto tu Facciarti così, perfidamente, sentirti fremere di felicità Pronti, prontissimi per una nuova puntata di Romagna Mia in Italy Sempre in collegamento con la Romagna, precisamente a Gatteomare In spiaggia con Massimo Bondi, presidente della cooperativa Bagnini di Gatteomare e Villa Marina Si chiama Villa Marina Gatteomare Subito, mi ha corretto, lui è precisissimo Insomma, apriamo così questa giornata insieme Proprio per annunciare che l'estate, insomma, è arrivata Lo si vede dal sole, da questa situazione in cui ci troviamo quest'oggi Ma è tutto pronto per l'estate? Sì, diciamo Dobbiamo tranquillizzare gli amici che ci seguono da tutta Italia, non solo No, io sono molto contento di essere in tua compagnia Perché dico sempre, fra l'altro, di venire negli studi Ma forse sei venuta tu al mare Sai, quando Maometto non va alla montagna No, non è vero E io ho fatto posto così tu venivi Preferisco anch'io, sai Come vedi siamo già al mare Dopo un inverno disastroso Nel fatto di queste burrasche Ci hanno un po' fatto lavorare prima dell'estate Adesso speriamo che con l'arrivo della stagione possiamo lavorare anche quest'estate Invece con tutti i turisti che verranno qui da noi Che seguono sempre fortunatamente la nostra località Quanti stabilimenti ci sono esattamente? Noi abbiamo 45 stabilimenti di cui 15 a Villa Marina e 30 a Gattiomare Tutti pronti, prontissimi So che insomma anche la grande animazione del Gattiomare Village è già insomma In defibrillazione Esatto, esatto Magari con loro ne parleremo anche in altre puntate Certo, noi io mi fa piacere che parliamo della spiaggia Veramente perché i bagnini hanno fatto tanto Ripeto, non voglio essere ripetitivo del fatto di quest'inverno Che ha creato dei disagi Però come vedete da soli i picchetti sono già tutti pronti Abbiamo messo le altane sponsorizzate dal nostro sponsor Topolino Park Sono tutte nuove anche quelle Non solo le novità però Diciamo che i bagnini cercano sempre di far sì Che il turista che viene da noi sia trattato nel miglior modo possibile Esatto, allora adesso invece noi ci colleghiamo con la nostra regia di Francesco Dardari Perché il divertimento è anche musica, spettacolo Specialmente Quindi andiamo a scoprire insieme quali sono i videoclip della nostra giornata Ma noi vi aspettiamo più tardi Proprio per concludere insieme questa nostra giornata Ciao Ma noi vi aspettiamo più tardi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti